Non esagerate. L'importante di una effettiva della schiena è sentire l'apertura del torace. Quindi la mente è qui, non dietro. Dietro è solo uno strumento che ci permette di aprire il petto. Le posizioni passo scivolato, chi è flessibile, più lungo possibile. Allungatevi dal dottore, tutti gli schioccolionali, cercate di allungare bene quando fate le posizioni lunghe. Quando facciamo il petto che si è vicino alla coscia, la testa va in avanti. Non la testa verso la coscia, ma la testa in avanti. Due forze opposte, una sulla testa e una sul piede posteriore. C'è questo allungamento che dobbiamo fare. Quindi proviamo a farlo insieme, da questa posizione. Saluto. L'uopan shipasou. Pesso del corpo. Sollevo. Controllo il peso. E solo alla fine trasferisco il peso. Braccio su. Inspiro lentamente. Mi allungo. Continuo a inspirare. Schiaccio qui. Ritorno su. Espiro. Torniamo con la schiena. Torniamo con la schiena. Avanti. Parola. Parola. Premo dolcemente. Ritorno con la schiena. Ritorno con i palmi. Separo. Grande cerchio. Indietro. Grande tese. ritorno, mani in preghiera, qui passo scivolato, uno, Gompu, due, forza sulla testa, sul piede posteriore, ritorno con la schiena, premo con le braccia, passo scivolato, quindi Gompu, testa, spingi davanti, tallone e ritorno con la schiena, premo con le braccia,